Tutto era partito dalle denunce di due sindaci della Val di Chiana che avevano dato avvio alle indagini dei carabinieri che adesso hanno individuato il responsabile che avrebbe imbrattato i muri dei due borghi. A sporgere denuncia contro i gnoti la sindaca di Lucignano, Roberta Casini, è la prima cittadina di Marciano della Chiana, Maria De Palma. Entrambe i militari avevano raccontato di come alcuni edifici dei loro comuni fossero stati imbrattati con vernice spray, così come alcuni cartelli stradali. Il presunto autore avrebbe compiuto le sue gesta utilizzando sempre inchiostro di colore nero e riproducendo a caratteri cubitali il numero 57 che verosimilmente aveva il significato di libertà. I militari dell'arma hanno così acquisito i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza di entrambi i comuni e hanno iniziato a visionarle. Hanno poi ascoltato testimoni e disposto a servizi di osservazione e pedinamento. Alla fine tutti gli elementi raccolti hanno portato sulle tracce del 47enne che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'accusa per lui è quella di danneggiamento e deturpamento di cose mobili altrui.